L'ordine del giorno rega l'audizione di Angelo Falato, appartenente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone d'inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico. Io, visto e considerato che la maggior parte delle domande che faremo sono domande che vengono dagli atti, ma anche che nelle ultime audizioni sono emerse delle cose, propongo di andare in seduta segreta. Quindi per chi sta collegato usciamo e chiudiamo tutto. Grazie.